Una grave aggressione fisica agli infermieri del pronto soccorso a 14 mesi dall'ultimo episodio che scatenò una plateale protesta con flash mob di tutto il personale sanitario con il quale solidarizzò anche l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini venuto all'ospedale San Salvatore per l'occasione. Da quell'episodio fu però istituito il presidio con guardia armata H24 al pronto soccorso, un presidio che la stessa azienda sanitaria territoriale giovedì ha reputato fondamentale nell'ottemperare un protocollo di sicurezza che ha funzionato nell'arginare la furia del ventenne in stato d'ebrezza arrivato in ambulanza al pronto soccorso dopo un incidente stradale. Il giovane ha dato in escandescenze danneggiando la sala d'attesa, prendendo per il collo un infermiere e minacciando altro personale, il tutto girando seminudo. Il protocollo ha funzionato col presidio che ha attivato la chiamata di emergenza alle forze dell'ordine tramite il pulsante di allarme installato nei diversi punti del pronto soccorso. Un dispositivo che ha permesso l'intervento tempestivo dei carabinieri per sedare l'aggressione e procedere con l'arresto. Nella negatività dell'episodio dunque la positività di un protocollo che indica una strada che può lenire lo stress già esasperato della categoria. Io voglio quindi esprimere, ripeto, la mia solidarietà anche perché ritengo che questi siano fatti molto gravi, ma soprattutto nei confronti di persone che dedicano la loro vita con dedizione, con professionalità per curare, stare vicino alle persone che stanno male, che hanno problemi fisici, problemi di salute e che molto spesso grazie al loro intervento riescono a salvare le vite umane.